Il cammino europeo dalla palla canestro Varese inizia a prendere forma. Se i biancorossi non si qualificheranno in Champions League saranno inseriti nel girone ID Europe Cup con Schole Basket, Göttingen e una fra Benfica e Tbilisi. Prima però spazi preliminari di Champions. Tre step separano l'Open Job Metis dall'accesso alla principale competizione continentale targata FIBA e il primo appuntamento è fissato per il 27 settembre contro i serbi del Belgrado. L'eventuale semifinale e la finale del 1 ottobre sanciranno il futuro biancorosso. In caso di risultato negativo la palla canestro Varese tenterà l'assalto alla Europe Cup partendo proprio dal girone ID, a caccia di un trofeo che è sfumato nel 2016 in finale contro il Francoforte.